Ricercatori dell'MIT di Boston e dell'Università di New York, coordinati dal Cibio, il Centro di Biologia Integrata dell'Università di Trento, hanno ammesso appunto un metodo per mappare le cellule tumorali e seguirle nei diversi stadi di sviluppo e mutazione. Un passo avanti importante per la nuova frontiera delle cure oncologiche della prostata, la preparazione di terapie personalizzate sui singoli pazienti. D'ora in poi sarà possibile colpire una ad una le cellule tumorali dritti al berzaio con un mix o un dosaggio personalizzato di farmaci. La lotta al tumore e alla prostata ha probabilmente compiuto un passo decisivo verso una terapia mirata per il singolo paziente, grazie ad un algoritmo sviluppato tra Trento, Boston e New York, in grado di offrire informazioni mai avute prima sullo sviluppo del carcinoma. Francesca De Michelis è una biologa computazionale, ha coordinato una delle linee di ricerca, per sette anni ha lavorato negli Stati Uniti, poi nel 2010 ha scelto di tornare in Italia, al Cibio di Mattarello, il Centro di Biologia Integrata dell'Università di Trento. Ora siamo in grado di tracciare la cronologia di un tumore, ovvero come il tumore evolve. Questo non era assolutamente possibile prima. Il cancro alla prostata è la seconda causa di morte per tumore tra gli uomini. La ricerca è nata dalla collaborazione tra il Cibio, il Wild Cornell Medical College di New York e l'MIT di Boston. Prima si faceva una fotografia e non avevamo mezzi per dire quale mutazione era venuta prima e quale dopo, e quale era omogenea e eterogenea. E ora siamo in grado di farlo. La ricerca ha rivelato anche altro. Le mutazioni avverrebbero in modo improvviso e coordinato attraverso delle vere esplosioni genetiche, che garantirebbero vantaggio competitivo alle cellule tumorali. La loro mappatura è dunque fondamentale. Assolutamente. Si va verso quella che chiamiamo medicina di precisione, dove sulla base delle alterazioni genomiche di ciascun individuo si sceglierà la terapia più adatta. Già oggi il Cornell Medical College di New York sta sperimentando queste terapie in alcuni pazienti per i quali le cure convenzionali non hanno prodotto risultati, ma è la stessa De Michelis a predicare prudenza. La cura sarà più mirata, l'efficacia dipenderà da soggetto a soggetto. La cura sarà più mirata, l'efficacia dipenderà da soggetto.